Un momento importante, un appuntamento oramai fisso all'interno dell'anno per fare sinergia, per promuovere quello che è lo sport legato all'attività aziendale Benelli. Sì, è un appuntamento che abbiamo ripreso ormai da tre anni dopo la pausa forzata per il Covid. È stato importante riprenderlo perché è un momento di team building, è un momento in cui tutti i dipendenti dell'azienda possono frequentarsi al di fuori dell'ambiente lavorativo, quindi fare squadra, conoscersi meglio, conoscersi anche a livello familiare, portare come vedete tutti i bambini, tutte le nuove generazioni Benelli. Un momento per fare squadra ma anche per far conoscere e conoscere meglio quelli che sono i prodotti. Dietro questo sport ci sono tanti professionisti, molti dei quali collaborano e portano nel mondo il nome Benelli. Sì, esattamente, abbiamo visto qui lo spettacolo di Davide De Carolis che è nato e cresciuto con Benelli ormai dal 2018, quindi è il nostro testimonial in tutto il mondo. Qui fa spettacoli come quello che abbiamo visto questa sera qui a Urbino, è stato adesso appena in Francia, in UK, in America, quindi lui porta il brand Urbinate e Benelli in tutto il mondo. Eccoli! Carico, carico, carico! Questa volta ne prenderò quattro e tenterò il colpire in quattro posizioni differenze. Ragazzi, grazie! Sì, grazie! È stata così, capita una volta all'anno, quindi con il risultato che c'è stato diciamo che ancora più contenti, torniamo al lavoro più contenti. Vincitore del tiro al volo per questo 2024, di solito tiri oppure è stata una grande fortuna? No, dai, ogni tanto mi diletto in questo sport, però siamo stati fortunati oggi. Ti sei preparato per questa giornata? Beh, sì, dai, logico. Un po' di prove le ho fatte, come normale che sia. Se uno punta a vincere bisogna allenarsi. Una giornata importante in cui si crea sempre più squadra, una sana competizione, una giornata importante per tutti coloro che lavorano nel mondo Benelli. Cosa pensi di questa giornata? È una bellissima giornata conclusa al meglio. Stasera festeggiamo tutti alla cena. Cosa significa lavorare secondo te in Benelli? È una grande occasione di crescita nel mondo delle armi e sono molto contento di fare parte di questa grande famiglia. Grazie a tutti voi! E allora! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!